La spesa si fa anche di domenica. Più Europa Lario ha promosso una manifestazione a Lecco il prossimo 24 febbraio per sostenere le aperture nei giorni festivi dei negozi. Il giorno in cui lì è stato annunciato ufficialmente che l'Italia è in recessione, spiega il movimento europeista, la maggioranza giallo-verde al governo ha depositato una proposta di legge che impone alle attività commerciali di stare chiuse per più tempo, fino a 26 domeniche all'anno. È un controsenso logico prima ancora che una follia economica. La libertà è un principio e un valore, dichiara Luca Monti, presidente di Più Europa Lario. Assistiamo a continui arretramenti senza comprendere e condividerne il senso. La tutela del lavoro e della famiglia non si ottengono certo diminuendo le occasioni di lavoro o limitando e vincolando la libera gestione del tempo alle famiglie. Il governo del cambiamento, aggiunge Luca Perego, coordinatore di Più Europa Lario e membro dell'Assemblea Nazionale di Più Europa, da prova un'ennesima volta di essere un governo della peggiore conservazione e del peggior sguardo rivolto al passato. Anziché al futuro questo decreto ci riporta indietro di almeno 10 anni. Nel caso questa proposta di legge dovesse passare, raccoglieremo le firme, conclude Perego, per indire un referendum abrogativo a livello nazionale. Domenica 24 febbraio i sostenitori di Più Europa Lario saranno fuori dal parcheggio all'aperto del centro commerciale delle meridiane di Lecco dalle 9.30 alle 12 per ribadire il loro no a un decreto dannoso e che, puntualizzano i militanti, non migliorerà le tutele del lavoro ma anzi ci farà regredire di anni mettendo a rischio occupazione e crescita. Grazie a tutti.